diverso da destiny una cosa di diverso ogni tanto aia ti piace a lei? meno male è stato incredibile beccati sta palla Katagawa e dai su che sarà che sarà mai un po' di sano danneggiamento di proprietà tra mega corporazioni rivali ok solo un attimo vabbè oh ok 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 oh ah si vabbè cazzo questo gioco è una grafica stra bella eh lo so Kekko ed è anche parecchio difficile non è un cazzo facile sei sempre sottolivellato qualsiasi cosa fai è un cazzo facile è un cazzo facile sempre meglio di D1 ecco la frecciatina che è un cazzo facile ma eh si eh si si ci ho giocato che ecco vagamente si ci assomigliano però non so se vedi Dr Disrespect le musiche che mette sono identiche a queste in teoria come setup non è malvagio qua si deve correre bella Dago bella bella guardate ragazzi cerco di concentrarmi un attimo come qua mi 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 lo so che posso fare più di così No, è più di così Adesso è ghiaccio Sì 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 Sì